Koichi è un atleta e gioca a basket e siccome è bravino, le ragazze gli scrivono messaggini sulle palle. Da basket intendo, eh. Ma un giorno il giovane viene teletrasportato in un'altra dimensione, dove viene accolto gentilmente da un tizio leggerissimamente più alto e grosso di lui, Caius, il re dei giganti, il quale chiede a Koichi di sposarlo e di regnare con lui su quella terra. Sì, avete sentito bene. E per cercare di convincerlo, gli fa una pippa. E sì, avete sentito bene anche adesso. In pratica finisce che il gigante se lo vorrebbe scopare. Ma la domanda è, questo gigante, alto, grosso, quindi già di su avrà un pene decisamente importante. Metti caso che è pure superdotato? Che fine farebbe il povero Koichi? Che oltretutto, per essere un etero che viene stuprato da un gigante di un'altra dimensione, la prende anche fin troppo bene, eh. Si limita a domandare di essere riportato a casa, dopo. Caius però gli offre un patto, di rimanere con lui per un mese e se poi vorrà andarsene ancora, lui lo accontenterà. Koichi, non sapendo come tornare senza l'aiuto della magia del gigante, è suo malgrado costretto ad accettare. E sto gigante è proprio innamorato di Koichi. E quindi insegnargli che cos'è il basket non è una buona mossa se vuoi levartelo di torno. Infatti il gigante rompe il patto di non fare niente senza che lui voglia e lo bacia per strada come se nulla fosse. Il ragazzo però si lamenta, si vergogna, ma il buon Caius ci spiega che lì nel suo paese è normale amoreggiare e scopare per strada. Praticamente abita di Ibiza. E nonostante le ritrosie di Koichi, Caius non demorde e lo porta in un angolo nascosto per strusciaglielo un po' addosso. E tutto questo accade per via di una profezia che impedisce al re dei giganti di sposare qualcuno del suo mondo. Cioè deve per forza avere una sposa proveniente da un altro mondo. E va bene. Ma quello che non abbiamo capito è perché deve essere un maschio questa sposa. Anche perché lui a un certo punto chiede a Koichi se vuole fare un figlio. Deve essere un demente! Comunque sorvoliamo pure su Koichi ridicolmente agghindato come una sposa e facciamo la conoscenza di Medina, l'ex fidanzata di Caius. E qui colpo di scenona direi. Ma l'entrata in scena di questo personaggio serve solo a fare in gelosia un po' Koichi e quindi finalmente a farlo cedere. Poi Koichi si ammala perché ha bevuto il succo di un frutto che per gli umani è velenoso. Così lui e Caius si devono avventurare verso il villaggio delle bestie per comprare un altro frutto che può fare d'antidoto. Tutte scuse per farsi delle mega cavalcate fuori porta perché ormai si tromba regolare. E la cosa strana è che è sempre Koichi a fare la femmina. Ma andiamo bene! E infatti il giorno dopo si aggira per le strade leggermente debilitato. Un po' per la malattia e un po' per la sua sempre più frequente attività serale. Ma nella notte un lupo penetra nella stanza mentre Caius non c'è per rubare. Koichi coraggiosamente cerca di difendere i suoi averi ma viene rapito. Intanto Caius è stato ingannato dalle brutte bestie cattive ed è in trappola. Ma lui è fortissimo e gli emena a tutti. Intanto Koichi si sente in colpa per Caius che è stato catturato perché lui è un debole essere umano. Ma il lupo scambia questo suo disagio per voglia di chiavare. Inizia a praticargli un anilingus quando ecco che nella stanza irrompe un Caius più incacchiato che mai che è riuscito a trovare Koichi grazie a un incantesimo di localizzazione. E per il lupo si mette molto male ma gli verrà risparmiata la vita perché Koichi non vuole che muoia. Sta a vedere che quell'anilingus... No dai cosa vado a pensare? Comunque Caius in cambio lo costringe ad andare a cercare il frutto per lui così può fottere Koichi indisturbato. E finalmente anche il ragazzo si innamora di lui. E così Caius, il re dei giganti con la sua pazienza, dolcezza, determinazione e qualche colpetto di un'altra cosa ha trasformato facilmente un etero in un gay. Fine! Però non ci dicono se alla fine Koichi ha deciso di rimanere lì allo scadere del mese. Cioè finisce così. Che amarezza! Comunque questo era The Titan's Bride la moglie del titano del gigante primo anime yaoi in assoluto che io abbia mai visto. Attenzione! Detto questo prima di chiudere come sempre un saluto a tutti i miei Patreons e ci vediamo al prossimo video. Ciao!